Dunque, io credo che questa crisi abbia svelato in realtà ciò che c'era già, cioè che abbia portato a, come si dice, al pettine molti nodi, che sono oggi visibili in tutta la loro evidenza, anche da parte di chi tendeva a negarli. Fa molta impressione sentire cose che non si sentivano a decenni in bocca insospettabili. Prima di tutto, la necessità di una ricostruzione dello Stato. Ora, non so dire se, come credo, tutto questo andrà via come, diciamo, lacrime nella pioggia, per citare un noto e bel film nel momento in cui si dovesse tornare alla normalità. È probabile che sia così. Mi sembrano lacrime di coccodrillo di chi finora ha lavorato per smontare sistematicamente un'idea di pubblico. Direi che una delle prime cose evidenti è stato questo. Ci siamo trovati chiusi nel nostro privato ed è stato immediatamente evidente come questo fosse in qualche modo il punto di raggiungimento finale di una privatizzazione totale delle nostre vite e della cosa pubblica. Dalla privatizzazione della sanità, alla privatizzazione di ogni forma di partecipazione e l'esclusione quasi di uno spazio pubblico, fino alla realizzazione per qualche mese del sogno proibito di un turbocapitalismo estremo, il dovere di produrre e di consumare, ma non quello di vivere come persone umane. L'idea che si potesse solo avere quell'unica funzione. A me pare che sia stato molto evidente questo e che ancora lo sia. Ora la domanda è se ciò che abbiamo imparato servirà, se davvero ci sarà qualche cambiamento o se, come tutto sembra lasciar credere da queste prime battute di cosiddetta ripartenza, non saranno invece soltanto acuite, approfondite, esagerate, tutte le tendenze drammaticamente nefaste che abbiamo fin qui visto. Cioè rischiamo di uscirne ancor più liberisti, ancor più selvaggiamente affidati alla giungla del mercato, con ancora meno Stato o paradossalmente con un indebitamento generale che a spese di tutti noi, dei nostri figli, dei nostri nipoti, in realtà realimenti, col denaro pubblico, l'unica cosa pubblica qua, il sistema di un mercato assolutamente senza regole, con un'ulteriore accentuazione dell'unica dimensione privata. Ora la cultura è pubblico, è pubblico in tutti i sensi. È pubblico nel senso di rapporto con un pubblico, ma è soprattutto una dimensione pubblica. È, da storico dell'arte, innanzitutto lo spazio pubblico del paese. Quello che ci è mancato così tanto in quei mesi e non soltanto come luogo in cui agire la democrazia con i corpi, cosa fondamentale naturalmente, ma anche e soprattutto quello della costruzione di una collettività democratica. Lo spazio pubblico monumentale, uno spazio pubblico che non si può intendere esclusivamente come cassa, come luogo di intrattenimento turistico. Vi parlo da una città, dal centro storico di Firenze, dove vivo, in cui i musei comunali sono ancora chiusi perché non ci sono i turisti. A differenza di Roma, dove i musei capitolini sono almeno riaperti, a Firenze il sindaco ha deciso che in assenza della macchina del turismo non ha significato riaprire i musei civici. Una, come dire, drammatica realizzazione, concretizzazione dell'idea che tutto questo in realtà non abbia un valore civile, non abbia un valore politico, non abbia un valore collettivo. Naturalmente il protesto è che bisogna richiamare l'attenzione del governo sul fatto che Firenze ha perduto 150 milioni di euro l'anno con la tassa di soggiorno, in un bilancio tutto costruito soltanto sul turismo, sul turismo intensivo, sull'over turismo che spelle i residenti e distrugge la città. In mancanza di quello la cultura diventa un'arma di ricatto, di fatto uno stagio nelle mani dell'amministrazione comunale contro il governo centrale. Io ricordo il momento in cui qualche anno fa il governo Renzi, con questo stesso ministro Franceschini, dichiarò la cultura servizio pubblico, in quel caso si trattava di impedire un'assemblea dei lavoratori del Colosseo, regolarmente indetta, e si disse che non si poteva interrompere nemmeno per un'ora la fruizione del Colosseo da parte dei turisti, perché era un servizio pubblico essenziale. Cosa rimane oggi di quella idea del tutto strumentale di servizio pubblico essenziale? Certo Renzi e Franceschini non lo sapevano, ma c'è un passo molto noto e molto vero dei quarenni del carcere di Gramsci, in cui Gramsci parla di servizi pubblici intellettuali e dice che nell'Italia che andrà ricostruito dopo il fascismo dovranno avere grande spazio i servizi pubblici intellettuali, cioè quelle funzioni, dice, che non possono che essere gestite dallo Stato perché non possono essere lasciate in mano al mercato e dice cosa sono musei, biblioteche, teatri e poi fa un lungo passo sui teatri e sul fatto che i teatri non possono essere intesi solo come un affare commerciale, ma sono una funzione politica fondamentale e importa, e dice, l'interesse nazionale che lo Stato sia, lo Stato a sostenerli, a consentire un accesso collettivo alla cultura. Ora, io credo che la crisi da cui forse usciamo, non so, ha svelato, diciamo, il totale fallimento, il totale tradimento di quel progetto, che poi era il progetto costituzionale sulla cultura, innanzitutto perché ne ha svelato la totale privatizzazione. Il simbolo del Museo Egizio di Torino, che è stato il primo museo conferito a una fondazione privata, lo fece il ministro Urbani di Forza Italia, ma la legge era di Walter Veltroni, era del 1998, e la legge sulle fondazioni culturali, come al solito una scellerata alleanza fra centrosinistra e centrodestra, in una perfetta continuità, quel museo è stato conferito a una fondazione di diritto privato in cui i soci sono il comune di Torino, la regione Piemonte, prima c'era anche la provincia, e due fondazioni bancarie. Nel momento in cui è mancato l'introito dell'abiettazione, il Museo Egizio non sa come pagare i 55 dipendenti, e non sa nemmeno come pagare la ventilazione delle collezioni, è la più importante collezione di reperti egizi del mondo dopo il Museo del Cairo. Le collezioni sono ancora di proprietà statale, ma nessuno a Torino ha intervenuto né i soci, le fondazioni e gli enti locali, né quella borghesia torinese che ha negli Elkana Agnelli un simbolo molto attuale vista la loro richiesta di prestiti garantiti dallo Stato, nessuno ha trovato i soldi per l'Egizio, il che svela il fatto che in questa privatizzazione italiana ancora di fatto i soldi sono sempre pubblici. Dovrà, anche se ancora non sappiamo in quale forma, intervenire allo Stato per salvare almeno le collezioni dell'Egizio e spero anche i suoi lavoratori. Quel modello era il modello pilota, il modello guida che è stato più volte indicato come l'esempio, il modello su cui è stata plasmata la riforma Franceschini dei musei. Cioè l'obiettivo era arrivare a tante fondazioni museali con partecipazione degli enti locali, tant'è vero che nei consigli scientifici dei musei siedono rappresentanti degli enti locali, e poi dei mecenati cosiddetti privati. Questo è un altro aspetto che è venuto drammaticamente alla luce, cioè la finzione, il fallimento delle privatizzazioni italiane è anche sul piano proprio del bilancio e della possibilità di reggere in piedi queste creature, che di fatto è lo Stato ancora a tenere in piedi. Socializzazione delle perdite, privatizzazione degli utili, in questo caso gli utili sociali, perché degli utili, diciamo, di legittimazione politica, visto che il Museo Egizio è evidentemente, come direi, il grande giocattolo dell'alta borghesia torinese, che però non dà un soldo per il Museo Egizio stesso. E poi, e su questo direi che dal mio punto di vista, di storico dell'arte, i precari, di mi riconosci, sono un professionista dei beni culturali, questa associazione l'hanno portato molto bene alla luce, si è svelato ciò che noi tutti conoscevamo bene, ma il pubblico un po' meno, cioè quanto il patrimonio della nazione, per usare l'espressione della Costituzione, si regga su un lavoro precario, su un lavoro povero, non di rado sul lavoro nero, su un lavoro che non ha nulla a che fare con quello che immaginano i visitatori dei musei. ALES, la grande società di diritto privato del Ministero dei Beni Culturali, è diventato una grande centrale di lavoro povero al servizio del patrimonio culturale. Tutto questo si è immediatamente svelato nel momento in cui le casse dei musei sono chiuse e il sistema è andato in crisi. Ora il punto è come raccontare tutto questo, come renderlo noto, come far passare dei messaggi. Io sono il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico delle Belle Arti e quindi faccio parte del Consiglio Superiore dei Beni Culturali. Lì i direttori generali dei musei ci hanno detto che i musei hanno grosse difficoltà a ripartire perché hanno una cassa vuota. Ci sono enormi problemi nella gestione della sanificazione e degli impianti di reazione dei musei. Non ci sono spesso gli strumenti per far lavorare in sicurezza e per accogliere i visitatori in sicurezza. Cioè il sistema è un sistema al collasso. Se si parla delle biblioteche o degli archivi il discorso è ancora più drammatico perché naturalmente questi luoghi sono stati considerati improduttivi e dunque sono stati lasciati ancora più indietro, la direttrice generale degli archivi spiegava nel Consiglio Superiore che hanno un preventivo di un milione e mezzo di euro all'anno per le sanificazioni su un bilancio attuale di 4 milioni in tutto che già non consentiva di tenerli aperti. Non sanno dove trovare questi soldi. Dunque, in questo quadro il Ministro dei Beni Culturali annuncia alla nazione il suo sì al ponte sullo stretto di Messina. Cioè, come dire, si evita di parlare della situazione reale e si apre la porta all'altra faccia e cioè alla semplificazione, cosiddetta, alla distruzione della tutela e all'unica idea di ripartenza, di costruzione, tutte con la R maiuscola, come maiuscola un'altra R, quella della retorica che le accompagna, in cui di fatto l'unica idea è quella del cemento e del mattone, cioè una ricostruzione come quella dei 30 gloriosi, senza avere l'economia dei 30 gloriosi e senza ricordare che prezzo ha pagato l'ambiente in quegli anni. E invece ci sia via questo. Sono già annunciate delle proposte di legge chiaramente incostituzionali che sottrarrebbero le sorrintendenze e le ultime leve quindi per tutelare l'ambiente. Una specie di super sblocca Italia è alle porte. Franceschini ci ha detto in Consiglio Superiore che si sente molto solo, addirittura nel governo, che però appunto non gli impedisce di approvare il ponte sullo stretto. Questa è l'altra metà della medaglia per chi si occupa di patrimonio culturale, è il paesaggio e l'ambiente ed è la dimensione più essenziale direi a una rifondazione diciamo così di un'idea stessa di collettività, lo spazio pubblico. Invece ci sia presta a una stagione in cui lo spazio pubblico sarà ulteriormente consumato, mangiato, messo a sacco, messo a reddito. Io temo che gli unici cambiamenti che si annunciano siano in peggio. Cioè un lavoro ancora più povero e ancora più precario, e ancora più privo di dignità, un patrimonio ancora più privatizzato. Qui a Firenze si dice che verranno iscritte sulle pietre di Piazza della Signoria i nomi dei fantomatici donatori che aiuteranno Firenze, come se ci fosse stata l'alluvione, come se non fosse tutto il mondo in questa situazione e come se la situazione economica della città non fosse responsabilità delle sue classi dirigenti. L'unica strada è continuare come prima. Il Consiglio Comunale qualche giorno fa ha approvato la trasformazione della caserma di San Giorgio, uno spazio straordinario del centro storico, qua accanto in Oltrarno e in Collina, in un resort di lusso, che evidentemente presuppone che il modello precedente continui, nonostante tutto ciò che si dice, alla grande. Dunque vedo, diciamo così, una coazione a ripetere ciò che c'era prima ancora in modo ancora più feroce, e ancora più selvaggio. In tutto questo non esiste, mi pare, una proposta politica alternativa. Il Vice Ministro delle Infrastrutture del Movimento 5 Stelle ha detto che loro erano per l'ambiente, ma prima, che ora nella crisi, chiaramente non si può più fare, non si può mettere ostacoli alla ripresa. e non c'è, e non mi pare, che da sinistra, né dalla sinistra di governo, o che ne rimane, né da altre sinistre, sia venuto fuori un discorso alternativo o profondamente critico su queste prospettive con una proposta alternativa. Questo mi pare il quadro, che è un quadro certamente non esaltante. Dicevamo prima di iniziare, parlavamo della metafora in valsa del distanziamento sociale. È una metafora sbagliata, ma che rischia di dire in modo preterintenzionale la verità. Cioè, si uscirà più distanti socialmente. La crisi ha già svelato la profondità delle diseguaglianze, la menzogna più grande che sia stata una specie di livella che ci abbia resi tutti uguali, è esattamente il contrario, ha svelato la profondità drammatica delle diseguaglianze, e però, diciamo, si rischia un ulteriore approfondimento delle diseguaglianze. Anche sul piano della mentalità. Chiudo, e poi magari se Paolo si è riuscito a connettere, dialoghiamo, ma non voglio prendere troppo tempo, e sono qua per altri interventi, quando volete, brevi, più brevi. Chiudo dicendo che mi ha molto colpito vedere sui giornali la pubblicità della Porsche con, nei manifesti, la croce della Caritas. e lo slogan era che la Porsche ha capito che per arrivare primi non bisogna lasciare nessuno indietro, per ogni macchina venduta da 100.000 o 120.000 euro verranno dati 1.000 euro, o a 40 famiglie, o a 10 ragazzi che hanno una povertà educativa, a scelta dei donatori, un grande fratello, diciamo, da casa si decide chi campa e chi muore, e che in cambio di questa miseria la Caritas ha consentito di usare il suo simbolo, che peraltro è la Croce di Cristo, per vendere le macchine. Pochi giorni prima a Roma, la Caritas Roma aveva fatto un patto con Amazon in cambio di alcuni tablet regalati l'uso del logo della Caritas nelle campagne di Amazon. Ora, tutti conosciamo il fatturato di Amazon, quello della Porsche l'anno scorso è stato, i ricavi sono stati di 28 miliardi di euro. Ora, se anche se l'uscita dalla crisi si accompagna a questo tipo di religittimazione dei grandi attori delle diseguaglianze, colpisce anche il fatto che la Porsche sia della Volkswagen, le condanne sui trucchi delle emissioni ambientali sono recenti, come dire, sono in una certa contraddizione con la laudato sì, per dirne una, in casa Calitas, se però ecco, l'uscita diciamo dalla crisi è un'uscita a destra così drammatica, così, che incide così tanto sulla senso comune che è già drammaticamente spostato da destra, credo che, come dire, ci sarà più bisogno di cultura, di una cultura radicale e di una cultura diversa, ma che gli spazi in cui agirla e le forze per la vita di coloro che ne vivono saranno più ristretti, non più anni. io credo che la realtà sia che se ne sta uscendo molto peggio di come c'eravamo entrati e c'eravamo entrati già malissimo. Mi spiace di non dare un intervento così, con prospettive rose, ma io credo che dobbiamo vedere fino in fondo la prospettiva che abbiamo. Naturalmente c'è una pars costrum, è possibile, che è evidente, cioè quella di un completo cambiamento del modello, di un ribaltamento del modello, a partire per esempio dal fatto che, faccio solo un esempio, l'Istituto di Sanità e il Comitato Tecnico Scientifico per la Sanità avevano proposto al Ministero dei Beni Culturali di riaprire, di partire dai musei che fanno meno di centomila visitatori l'anno, cioè di partire dai piccoli musei, dai musei di prossimità, dai luoghi della cultura vicini alle comunità, non solo nei grandi centri, ma nelle aree interne, nell'Italia marginale, nell'Italia povera, nell'Italia dei vuoti, ma la scelta invece è stata quella di partire dal Colosseo, di partire dai grandi luoghi blockbuster di introito, anche se ancora per qualche giorno i turisti internazionali non ci sono. Questo è un indice molto chiaro del fatto che quel modello alternativo che poteva scattare, che mai come ora avrebbe potuto scattare, potrei dire con una battuta il patrimonio culturale congiunto, cioè i congiunti culturali, cioè quelli vicini, sia invece stato ancora una volta travolto da un'idea blockbuster al servizio di un overtourism che si spera ricominci come prima. Dunque, il modello alternativo è molto chiaro e molti di noi da anni lo propongono e io però vedo che si va in una direzione totalmente contraria. che rinchi che rinchi e che rinchi da un'idea che rinchi sia